Una rivoluzione che già stiamo vivendo, in grado di produrre nuovi servizi e comodità, ma che porta con sé anche il rischio di conseguenze drammatiche, che non tutti sanno riconoscere. È lo scenario tracciato nel corso di un convegno organizzato da Class Academy in collaborazione con l'Università Telematica Pegaso e che, fin dal titolo, pone una domanda che ha dell'inquietante. L'intelligenza artificiale è come l'invenzione dei telai meccanici nel 1700? Quello che unifica i due momenti è il fatto che allora, a metà del 1700, un rivolgimento totale di quelli che erano i cicli produttivi, i cicli economici e anche l'organizzazione sociale legata alla cosiddetta rivoluzione industriale modificò tutto. Modificò il modo di produrre, il modo di lavorare, non il modo di abitare, il modo di essere componenti di una società. A distanza di parecchi anni, diciamo, nei primi anni 50 del secolo scorso, la rivoluzione informatico telematica ha avuto delle conseguenze che sono quelle che noi stiamo vedendo analoghe. L'impatto dei mutamenti tecnologici in termini di occupazione e quindi di possibili stravolgimenti sociali ha fatto da sfondo alla lecture di uno dei più grandi fisici della nostra epoca, il professor Mario Rasetti. Ci troviamo alla confluenza di due grandi conquiste, una scientifica e una tecnologica, che sono i progressi enormi dell'intelligenza artificiale da un lato e i big data dall'altro. L'insieme di queste cose sta producendo cose molto belle per gli uomini, ma sta anche creando un problema, che è che noi stimiamo che entro dieci anni oltre il 60% dei lavori attuali e non lavori manuali, lavori dei colletti bianchi, bancari, pubblica amministrazione e così via, non saranno più svolti da uomini ma da macchine. Alle scienze il compito di stendere le carte in tavola, alla politica quello di scegliere la direzione da prendere, ma nell'aula magna di Palazzo Bonadies Lancellotti non hanno certo fatto a meno di risuonare i moniti a ripensare radicalmente il modello socio economico dominante.